Un premio in memoria di Veronica Stile. Veronica, avvocato di Nocera Inferiore, è scomparsa prematuramente nel 2020 a soli 33 anni. Per il secondo anno i componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera, con il patrocinio e il contributo dell'Associazione Fare Comune della casa editrice Giuffré, hanno voluto indire un bando in sua memoria per tenerne vivo il ricordo ed onorarne le qualità umane, professionali e morali. Per l'edizione 2022 è stata estesa la partecipazione agli iscritti di tutti gli ordini forensi della Campania, previsti tre premi per tre colleghi di Veronica che redigeranno i migliori atti giudiziari in materia di diritto civile. Il contributo economico offerto ai vincitori sotto forma di buono spesa sarà riservato esclusivamente all'acquisto di manuali giuridici, riviste giuridiche o supporti informatici legislativi presso l'Agenzia Giuffré di Salerno. Al bando potranno partecipare gratuitamente tutti gli avvocati e praticanti regolarmente iscritti agli ordini forensi della Campania che non abbiano compiuto all'11 novembre prossimo 33 anni. La domanda di partecipazione al bando è scaricabile dal sito dell'Ordine degli Avvocati di Nocera. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 15 novembre prossimo.